Nel presentarvi lo shampoo per bambini che non brucia gli occhi, Roberts vi racconta una storia di... Io, Fidoval! Io, Teddy! E noi, Gatti, ci siamo! Teddy! Eh? Andiamo a far baldoria al conservatorio? Sì, dai, al conservatorio! Andiamo a far baldoria! La 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 la! La 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 la! Ehi, Gattacci! Miau! Mondo Gatto! Arrivo! Miau! Mondo Gatto! Brutti, Pogallacci! Se li prendo! Ah, ci fido! Sai che al conservatorio non abbiamo mica suonato? Eh, già! Però, ai Gattacci gliel'abbiamo date, eh! Eh! Mmm! Beh, ciao, Fido! A quest'altra baldoria, Teddy! Eh, Fido! Eh? Ma cos'è che fai? Ridi per via della baldoria? No! Non sono io che rido! È nel bagno che stanno ridendo! Nel giovane mondo di Roberts, il buongiorno è Borotalco. Borotalco è l'ideale complemento del dopobagno. E se la pelle è delicata, delicato sia il sapone, il sapone neutro che porta lo stesso nome, Roberts.